Eh sì, finalmente mi sono arrivati! Questi sono due prodotti Moero molto speciali, li aspettavo da tempo perché io sono già un utilizzatore di questo tipo di prodotti, non vedo l'ora di farveli vedere. Intanto voglio farvi notare la cura nel packaging con il certificato di qualità, vi ricordo che questi sono prodotti italiani artigianali, sia per quello che riguarda i materiali, sia per quello che riguarda la lavorazione e direi che in un periodo come questo è molto molto importante dare spazio anche ad aziende italiane che fanno prodotti di qualità. Uh che bello, mamma mia, vediamo il secondo che ho scelto, meravigliosi, meravigliosi, già li vedo, sono super super contento. Allora Moero, azienda italiana che realizza portafogli compatti con delle specificità uniche, a partire dai materiali che come vi dicevo sono artigianali, utilizzano pellame italiano e lo fanno lavorare in laboratori artigianali su tutto il territorio italiano, ma come in questo caso utilizzano anche materiali particolari. Io qui ho scelto il sughero, guardate che bello che è, meraviglioso, bellissimo. Sughero che è un materiale addirittura più resistente della pelle, praticamente un materiale eterno che dà questo look molto naturale, a un prodotto che comunque ha delle sue particolarità diciamo tecnologiche, in particolare il fatto che lui all'interno può contenere le carte di credito qui all'interno di questo cofanetto in metallo, di questo diciamo case in metallo che ha anche la protezione RFID. Questo vuol dire che le vostre carte finché sono qui dentro sono protette quindi non possono essere in alcun modo violate magari da lettori che vi appoggiano alla tasca o cose del genere. Una particolarità unica di questi due portafogli ma di tutta la linea Moero è che a differenza di altri prodotti che si vedono sul mercato che consentono di far uscire le carte in questa maniera, quindi quando servono le carte escono e poi rientrano, ma Moero è caratterizzato da un brevetto che è questo meccanismo che non solo fa uscire le carte ma le protegge una volta che sono all'interno, quindi è impossibile perderle o rovesciarle da qualche parte, a differenza dei prodotti analoghi che utilizzano generalmente del materiale che fa attrito con le carte, il problema è che poi con l'utilizzo nel tempo questo materiale perde la sua capacità di attrito e quindi si rischia che le carte scivolino fuori quando non si deve e questa è una cosa che non deve succedere. Moero ha questo brevetto che risolve il problema brillantemente. All'interno c'è un portafoglio, chiaramente qui si possono mettere le banconote e la possibilità di andare a mettere alcune altre carte, io generalmente metto la patente, il codice fiscale, insomma le cose un po' più importanti qui all'interno. Ecco una particolarità di questo modello rispetto a questo qui è che c'è anche un piccolo portamonete a zip qui all'interno che come vedete si può espandere un pochettino e quindi è in grado di contenere volendo diverse monetine e poi c'è la versione senza il portamonete. Davvero top devo dire questi prodotti Moero mi hanno davvero lasciato il sorriso in bocca perché sono realizzati molto molto bene. Detto questo l'azienda ha messo a disposizione un codice sconto personalizzato per poter fare acquisti sul loro sito che vi lascio qui sotto in descrizione con uno sconto solo per voi, perciò direi grazie Moero e continuiamo con l'apertura dei pacchi.